Un tempo lei aveva una famiglia felice e invidiabile, ma poi il marito l'ha tradita diverse volte, infelice e disperata, sprofonda nell'odio. Chi l'aiuta a uscire da questa tragedia matrimoniale e chi guarisce il dolore del suo cuore, chi le dà una nuova vita. Avevo una famiglia armoniosa e felice. Io dirigevo le risorse umane in un'azienda. Mio marito era un manager del Servizio Elettrico Nazionale. Presto sarebbe stato promosso a vice direttore. Nostro figlio era molto intelligente e tutti i nostri conoscenti ci ammiravano. Proprio in quel momento di felicità e armonia è successa una cosa terribile. Mio marito ha avuto una relazione con la moglie del suo autista. Quello è stato per me un colpo improvviso che mi ha sconvolta totalmente. Non sono riuscita a mangiare e a dormire per diversi giorni. Ero arrabbiata e risentita. E mi sentivo profondamente umiliata. Soffrivo al punto di desiderare la morte. Proprio mentre tenevo in mano una fiala di veleno e stavo per suicidarmi, ho pensato a mia madre e a mio figlio. Se fossi morta, come avrebbe potuto mia madre ormai anziana sopportare il dolore di dover seppellire sua figlia? Mio figlio, così giovane, avrebbe dovuto affrontare tante avversità. Suo padre non era più affidabile. Quindi, senza madre non sarebbe stato sostanzialmente orfano. Questi pensieri mi hanno toccato il cuore. Singhiuzzando, mi sono inginocchiata. È miserabile vivere sotto il dominio di Satana senza fede né verità. Sì. È vero. Con il tempo, mi sono tirata fuori da quel dolore a metà strada tra la vita e la morte. Ma non ho riacquistato la serenità che avevo un tempo. Odiavo quella donna fino al midollo, perché dentro di me sentivo che lei era la causa della mia sofferenza. Lei che aveva distrutto la felicità della mia famiglia. E pensavo, tu mi hai resa infelice. E io non ti darò pace. Visto che mi fai soffrire in questo modo, te la farò pagare, il doppio. L'ho aggredita fisicamente. E ho pagato persone per andare a distruggerle la casa, tanto che aveva paura di rientrare. Questa non è una soluzione, vero? Già. Anche se l'avevo messa in una situazione così terribile, stavo ancora soffrendo. L'ombra della mia famiglia distrutta era sempre presente. Proprio allora, un conoscente ha condiviso con me il Vangelo del Signore Gesù e mi ha dato una Bibbia. L'ho letta. E la tolleranza, la pazienza e il perdono del Signore Gesù mi hanno davvero commossa. Lode a Dio. Mi sono chiesta perché non fossi ancora riuscita a perdonare mio marito e quella donna. Ho pregato il Signore di darmi la forza, di darmi la tolleranza e la pazienza per riuscire a perdonarli. Io e mio marito abbiamo smesso di litigare e non aggredivo più quella donna quando la vedevo. Ma non riuscivo ancora a liberarmi del rancore che nutrivo. Mi costringevo a tollerarlo per il bene della mia famiglia e di mio figlio e per andare avanti con la mia vita. Ma con mia sorpresa, non solo mio marito non è affatto cambiato, ma è addirittura peggiorato. Ha lasciato il lavoro ed è fuggito con quella donna. Per lui era un'ossessione. Sì. Ho pensato che in passato per lui avevo rinunciato a entrare in procure e ad essere promossa. Mi ero presa cura di nostro figlio, avevo cucinato e mi ero occupata delle faccende domestiche, facendo di tutto affinché mio marito ottenesse una promozione. Ma alla fine, tutto ciò che ottenevo in cambio era che lui mi tradiva e mi feriva. non riuscivo a sopportarlo. Odiavo mio marito per la sua mancanza di coscienza e di cuore e odiavo anche quella donna. Volevo addirittura vederla morta, anche se significava morire anch'io. Sarebbe stata una cosa stupida. Infatti, ho provato qualsiasi cosa per tagliare le loro fonti di reddito, cosicché non arrivassero a fine mese. Poco tempo dopo, sono tornati in città perché erano rimasti senza un soldo. Un giorno, mio marito ha pianto davanti a me ammettendo di aver sbagliato e chiedendomi scusa, giurando che avrebbe voltato pagina e sarebbe cambiato. Mi ha chiesto di rivolgermi ad alcuni miei amici per farlo trasferire a lavorare nel capoluogo, per iniziare una nuova vita in un ambiente diverso. Quando l'ho visto addolorato in quel modo e con quelle scuse che credevo sincere, mi si è sciolto il cuore. Volevo dimenticare tutta l'infelicità del passato e ricominciare da capo. Così ho accolto le sue richieste. Ho contattato subito i miei amici per farci trasferire entrambi. Siamo tornati a vivere insieme, ma per quanto lui facesse di tutto per accontentarmi e rendermi felice, era come se non avessi più nulla da dirgli. Beh, eri profondamente ferita. Esatto. Nonostante questo, continuavo a farmi delle illusioni sul nostro matrimonio, pensando che con il tempo quella ferita sarebbe guarita. Ma ciò che mi ha sconvolta ancora di più è che mentre mi impegnavo per il nostro trasferimento, ho scoperto per caso che aveva visto quella donna, aveva ripreso a vederla. non potevo più contenere la mia rabbia e gli ho urlato di andarsene. Due giorni dopo, se n'è andato senza dire una parola e non è più tornato. Allora, finalmente mi si sono aperti gli occhi. Era chiaro che non aveva mai davvero voluto pentirsi. era tornato solo perché non aveva di che vivere, era disperato. Diceva di voler ricocire ai rapporti, era stato gentile con me, ma era tutta una facciata. voleva solo usarmi perché lo aiutassi a ottenere il trasferimento. Sì. Rendermene conto, mi ha spezzato il cuore. Se si viene corrotti da Satana, può esistere un vero amore. Tutti si usano e si ingannano a vicenda. È vero. Sì. Odiavo mio marito con tutta me stessa e odiavo anche quella donna. Ho iniziato a pianificare di storpiarla o di sfigurarla. Non si può fare una cosa così. Sì. Certo. Se non avessi conosciuto il Vangelo di Dio degli ultimi giorni, non so proprio che razza di stupidaggine avrei fatto. Sì, infatti. Accogliendo l'opera di Dio degli ultimi giorni, leggendo le parole di Dio, ho imparato le ragioni dell'oscurità, del male, della miseria e della desolazione della società. Dio Onnipotente dice ignobile filosofia di vita, esistenza del tutto priva di valore, stile e abitudini di vita depravati. Tutte queste cose sono penetrate pesantemente nel cuore dell'uomo e ne hanno gravemente minato e intaccato la coscienza. Il risultato è che gli esseri umani sono sempre più lontani da Dio e gli si oppongono sempre più. Giorno dopo giorno, l'indole umana si fa sempre più maligna e non vi è nessuno che sia disposto a rinunciare a qualcosa per Dio, nessuno che voglia obbedirgli, nessuno che abbia intenzione di cercare la sua manifestazione. Invece, sotto il dominio di Satana, l'uomo non fa altro che perseguire il piacere, abbandonandosi alla corruzione della carne nella terra del fango. Anche quando odono la verità, coloro che vivono nelle tenebre non pensano affatto a metterla in pratica, né sono propensi ad andare alla ricerca di Dio, sebbene ne abbiano visto il manifestarsi. Come può avere qualche speranza di salvezza un genere umano così depravato? Come può vivere nella luce un'umanità così decadente? L'umanità non è altro che il mio nemico. Il genere umano è il maligno che si oppone a me e mi disobbedisce. Il genere umano non è altro che la progenie del maligno maledetta da me. Il genere umano non è altro che la discendenza dell'arcangelo che mi ha tradito. Il genere umano non è altro che l'eredità del diavolo che, respinto da me molto tempo fa, è da allora mio irriducibile nemico. Poiché, al di sopra dell'intero genere umano, il cielo incombe, torbido e cupo, senza nemmeno un barlume di limpidezza. E il mondo umano è immerso in una profonda oscurità e chi vive in esso non riesce nemmeno a vedere la propria mano stesa davanti al proprio volto o il sole quando si leva sopra la sua testa. La strada sotto ai suoi piedi, fangosa e piena di buche, si snoda tortuosa. Tutta la terra è disseminata di cadaveri. Gli angoli bui sono pieni di resti dei morti e nei recessi freddi e ombrosi si sono insediate torme di demoni. E ovunque, nel mondo degli uomini, demoni vanno e vengono in orde. La progenie di ogni sorta di bestie, coperta di sudiciume, è impegnata in una battaglia violenta, il cui suono incute terrore nei cuori. In tempi simili, in un mondo del genere e in un tale paradiso terrestre, dove si possono andare a cercare le felicità della vita, dove si può andare a trovare la destinazione della propria vita. Amen. Le parole di Dio ci rivelano come l'uomo viene corrotto da Satana. Già. Leggere le parole di Dio mi ha illuminato il cuore. Già. Ho visto che da quando Satana ci ha corrotti, abbiamo perso coscienza e ragione e siamo stati privati di umanità, dignità e integrità. Siamo tutti ingannevoli, egoisti, spregevoli, subdoli e maligni. Non facciamo che tramare per ottenere vantaggi personali, facendo calcoli sugli altri. Conta solo il nostro piacere e non ci importa che gli altri vivano o muoiano. Vero. Sì. Quindi, costruiamo la nostra felicità sulla sofferenza degli altri. Si combatte e si uccide a ogni angolo. La legge della giungla regna sovrana come tra gli animali. Se tu non mangi me, io uccido te. Sì. Nessuno ha umanità. Esatto. Giusto. Tutti vivono nel peccato, negano Dio e gli resistono. Disgustati dalla verità, adurano il male e godono dei piaceri del peccato senza ritenerlo tale. I mariti tradiscono le mogli, le mogli tradiscono i mariti, i mariti e le mogli si tradiscono a vicenda, si cullano nella lussuria per il loro piacere. E dov'è l'umanità? Sono fantasmi viventi. Sì. Satana tiene in pugno il mondo che diventa sempre più oscuro e malvagio. Vero. È ormai un marasma di peccato e adulterio. Sì. Vivendo in questo mondo, le persone diventano sempre più malvagie e depravate. Nessuno può sfuggire alla corruzione e al male di Satana. Sì. È vero. Ho capito che il tradimento di mio marito era il risultato dei veleni di Satana. Succedeva anche a me. Quando altre persone toccavano i miei interessi, mi colmavo di risentimento, vivendo sempre tormentata dall'agonia del mio odio, demotivata nel lavoro e nella vita. Anche mio figlio era coinvolto in quella situazione. Tutti quei disastri erano danni provocati da Satana. Capire tutto questo è stato illuminante per me. In seguito, pregando e leggendo le parole di Dio, ho acquisito consapevolezza della vita. Ho visto che l'umanità è corrotta, che tutti noi sfruttiamo e inganniamo gli altri e che non esiste il vero amore. A poco a poco, ho dissipato l'odio che avevo per mio marito e per quella donna e ho abbandonato il mio piano di vendetta. Lodi a Dio, capendo la verità e vedendo le cose con chiarezza, possiamo affrontarle correttamente? Giusto? Sì. Dall'ora è iniziata la mia nuova vita. Mi nutrivo delle parole di Dio, riunendomi con fratelli e sorelle, leggendo le parole di Dio e cantando inni di lode. Ho provato un senso di sollievo e libertà. Gradualmente, mi sono sentita meglio e ho ripreso anche a sorridere. Lodi a Dio. Dio si è lodato. Solo la verità può renderci liberi. È vero. Ma poco tempo dopo è accaduto qualcos'altro, una prova in cui ho quasi fallito. Un pomeriggio, un amico mi ha chiamata e ha detto che doveva incontrarmi a tutti i costi. Quando l'ho visto, mi ha detto con la massima serietà che ho divorziato da mia moglie. Tu mi sei piaciuta da sempre, fin dalla prima volta che ti ho vista. Ora che finalmente è possibile, voglio prendermi cura di te per tutta la vita. Sono rimasta sconvolta, ma con molta calma gli ho risposto impossibile. Lui mi ha detto che era serio e che si sarebbe occupato interamente di mio figlio, del suo lavoro, del suo matrimonio, che lo avrebbe trattato correttamente. Ha aggiunto molto altro, ma vedendo che non dicevo nulla, ha detto che mi avrebbe dato tre giorni per pensarci su e rispondergli. Questo è davvero un test. Cosa pensavi in quel momento? Quelle notte non ho fatto altro che rigirarmi nel letto, mi sentivo molto combattuta. Lui era piuttosto benestante. Eravamo sempre andati d'accordo e ci capivamo. inoltre, mio figlio aveva finito l'università ed era ancora senza lavoro. Per giunta, ero rimasta sola, senza avere nessuno a casa con cui parlare. Volevo davvero stare con lui. Ma ogni volta che ci pensavo, sentivo come una fitta dolorosa al cuore. Sapevo chiaramente che credenti e non credenti percorrono due strade diverse. Se fossi stata con lui, non avrei potuto praticare la fede. E questo avrebbe significato tradire Dio. Come potevo dimenticare che era stato Dio ad avermi salvata? Ma quando chiudevo gli occhi, il pensiero delle sue parole sincere e del suo sguardo implorante mi tormentavano. Quella notte non sono riuscita a chiudere occhio. Ho pensato lungamente a cosa rispondergli. Proprio quando avevo deciso di andare a stare con lui, mi sono ricordata delle parole di Dio. Che beneficio vi portano gli uomini? Possono veramente salvarvi dal mare dell'afflizione? Ho cominciato a piangere per l'illuminazione di queste parole. Ho pensato a tutti i momenti che avevo passato con mio marito, dall'amore al tradimento, dai voti matrimoniali al diventare nemici. Ripensarci mi ha rattristata. È vero. A cosa mi serviva un uomo? Poteva darmi amore e felicità autentici? Poteva salvarmi da quella marea di afflizioni? Non esiste vero affetto o amore tra gli esseri umani. I sentimenti e l'amore umani sono solo una messa in scena. Sono fugaci, non possono durare. Le persone si usano e si ingannano a vicenda solo per soddisfare i desideri della carne. Mio marito era così. Quindi, cosa rendeva questa persona diversa? Non aveva forse la stessa natura ed essenza? Decisamente. Non ero già stata ferita abbastanza duramente da mio marito? Volevo davvero affrontare il tormento di un altro matrimonio. Quando la ferita è guarita ho dimenticato il dolore e mi sono quasi lasciata fuorviare ingannare ancora una volta da belle parole. Sì. In quel momento mi sono odiata per la mia mancanza di coscienza e di gratitudine. Se non fosse stato per la salvezza di Dio sarei qui oggi. Dio ha espresso così tante verità ma io non le perseguivo. Invece inseguivo queste cose vuote e senza valore. Ero così sciocca. Le parole di Dio hanno ridestato nuovamente il mio cuore. non potevo rinunciare alla salvezza e a perseguire la verità per un altro uomo. La mattina dopo l'ho chiamato e ho rifiutato la proposta. Ho provato un grande senso di sollievo nel momento in cui ho riagganciato. Dio sia lodato. Lode a Dio. Le parole di Dio ti hanno guidata in tempo proteggendoti. Sì. Esatto. Altrimenti sono certa che Satana mi avrebbe ingannata e ferita. Sì, è vero. Poi un giorno ho incontrato una mia amica a cui ero molto legata. Aveva un aspetto che posso descrivere come emaciato e sparuto. Ero sconvolta. Mi ha detto che suo marito l'aveva tradita e che quando stavano divorziando lei aveva cercato di avvelenarsi ma alla fine era stata rianimata. Sentire quello che le era successo mi ha fatto pensare alla mia disperazione e infelicità per la fine del mio matrimonio. Sarei sicuramente morta senza la protezione di Dio. Lode a Dio. Sì. In seguito ho letto queste parole di Dio. Perché un marito ama la propria moglie e perché una moglie ama il proprio marito? Perché i figli rispettano i loro genitori e i genitori amano così tanto e i loro figli. Quali intenzioni nutrono davvero le persone? Non sono forse finalizzate a soddisfare i loro piani ed egoistici desideri? Sì. Le parole di Dio mi hanno mostrato perché dopo quasi vent'anni e i nostri sentimenti fragili non hanno resistito al minimo colpo. Il motivo è che non esiste vero affetto o amore tra gli esseri umani. si soddisfano solo i desideri personali o ci si usa vicenda. Quando vogliamo usare qualcuno diciamo belle parole per adularlo ma quando abbiamo finito di usarlo ce ne liberiamo come se fosse una vecchia camicia o un mucchio di rifiuti. Una famiglia felice e l'amore coniugale sono solo bugie per raggerare gli altri e una trappola di Satana per ingannarci. Sì, è vero. Purtroppo all'epoca non credevo in Dio non capivo la verità e non riuscivo a vedere i trucchi di Satana. Alcune bugie e finte lacrime di mio marito sono riuscita ad ingannarmi. Mi hanno raggirata. Ero totalmente accecata da un falso senso di felicità e avevo perso la testa illusa da quei sentimenti vuoti. Avevo quasi perso la vita per questo. Ero davvero un idiota. Purtroppo sì. È stato allora che ho capito che solo l'amore di Dio per gli uomini è veramente autentico e che quando ero colma di odio sono state le parole di Dio a dissipare l'odio nel mio cuore e a lenire il mio dolore dandomi un senso di pace e di gioia. Sì. Chi al mondo saprebbe amarmi in questo modo? quale amore potrebbe superare quello di Dio? Sono questi i pensieri che mi hanno confortata e resa grata per la salvezza di Dio. Solo Dio ama davvero le persone. Dio sia l'odio a Dio. Ho letto dei passi delle parole di Dio che mi hanno fatto capire la verità della corruzione dell'uomo da parte di Satana. Dio Onnipotente dice delle eterie influenze che migliaia di anni di nobile spirito di nazionalismo hanno lasciato profondamente impresse nel cuore dell'uomo a cui si aggiunge il pensiero feudale dal quale le persone sono legate e incatenate senza un minimo di libertà senza alcuna volontà di ambire o di perseverare né alcun desiderio di progredire rimanendo invece in posizione passiva e regressiva radicate in una mentalità da schiavi e via dicendo. Questi fattori oggettivi hanno trasmesso una qualità indelebilmente turpe e vile alle prospettive ideologiche agli ideali alla moralità e all'indole umana sembra quasi che gli esseri umani vivano in un mondo tenebroso di terrorismo che nessuno di loro cerca di trascendere e che non vi sia alcuno tra loro che prenda in considerazione l'eventualità di progredire verso un mondo ideale piuttosto si accontentano della propria sorte nella vita di trascorrere i propri giorni a generare e crescere figli a sforzarsi sudare e svolgere le proprie faccende sognando una famiglia agiata e felice circondati dall'affetto coniugale e filiale nonché una vecchiaia all'insegna della gioia mentre la loro esistenza volge serenamente al crepuscolo per decine migliaia e decine di migliaia di anni fino a oggi gli uomini hanno sperperato il proprio tempo in questo modo e nessuno di essi ha costruito una vita perfetta tutti quanti tesi solo a massacrarsi a vicenda in questo mondo tenebroso a fare a gara per accaparrarsi fama e fortuna e a tramare l'uno contro l'altro chi ha mai cercato la volontà di Dio qualcuno ha mai considerato l'opera di Dio ogni aspetto dell'umanità in cui l'influenza delle tenebre ha avuto modo di insediarsi è divenuto ormai da tempo parte integrante della natura umana ed è perciò molto difficile eseguire l'opera di Dio inoltre le persone hanno ancor meno cuore di prestare attenzione a quanto Dio ha affidato loro oggigiorno l'intera vita dell'uomo è vissuta sotto il dominio di Satana e non esiste uomo che si possa liberare da solo dall'influenza di Satana tutti vivono in un mondo sporco nella corruzione e nel vuoto senza il benché minimo significato o valore vivono una vita così sconsiderata per la carne per la lussuria e per Satana non c'è il minimo valore nella loro esistenza l'uomo è incapace di trovare la verità che lo libererà dall'influenza di Satana pur credendo in Dio e leggendo la Bibbia non capisce come liberarsi dal controllo dell'influenza di Satana nel corso dei secoli pochissime persone hanno scoperto questo segreto pochissime l'hanno colto anche se detesta Satana e detesta la carne l'uomo in quanto tale non sa come liberarsi dell'invischiante influenza di Satana Amen le parole di Dio rivelano la realtà della nostra vita non stavo forse sperimentando tanto dolore perché inseguivo una cosiddetta vita felice per l'amore coniugale per una famiglia felice ho cercato di essere virtuosa una buona compagna ero pronta a dare sangue sudore e lacrime persino a sacrificare la mia vita per Lui ero diventata come un dispositivo a orologeria che lavorava per mio marito e per la famiglia senza sosta quando mio marito ha fatto carriera ero entusiasta per Lui quando mi ha tradita ero distrutta e a casa piangevo come una pazza e la vita stessa mi appariva miserabile per rimettere insieme la famiglia distrutta sono venuta persino alle mani con quella donna senza pensare alla mia dignità o integrità ho dovuto anche riprimere l'astio che avevo nel cuore e dare a mio marito la possibilità di pentirsi ora finalmente riesco a vedere che vivevo sotto il dominio di Satana che venivo controllata e manipolata da Satana come un burattino e che stavo in pratica vivendo senza alcuna umanità una vita d'inferno eppure ne ero ammaliata convinta che fosse l'unica strada per una vita significativa le parole di Dio mi hanno aperto il cuore e mi hanno permesso di vedere che la cosiddetta vita felice che stavo perseguendo non aveva valore né significato è vero se avessi ottenuto quelle cose cosa sarebbe cambiato non era forse tutto vuoto sì certo senza la verità e la guida delle parole di Dio qualsiasi tipo di vita è vuota è miserabile sì senza dubbio avere fede apprendere la verità e compiere il dovere di un essere creato è l'unico modo per trovare pace e gioia spirituale e avere una vita significativa giusto poi ho letto queste parole di Dio sei un essere creato sarebbe naturale per te adorare Dio e perseguire una vita significativa se non adori Dio e vivi nella sozzura della carne non sei forse solo una bestia dall'aspetto umano? poiché sei un essere umano dovresti spenderti per Dio e patire tutte le sofferenze dovresti accettare di buon grado e con piena fiducia alla poca sofferenza a cui sei sottoposto oggi e vivere una vita pregna di significato come quelle di Giobbe e Pietro in questo mondo l'uomo indossa i panni del diavolo mangia il cibo dato dal diavolo e opera e serve sotto il totale dominio del diavolo lasciandosi calpestare nella sua lordura se non cogli il significato della vita o non ottieni la vera via allora che significato vi è nel vivere in questo modo? siete coloro che perseguono il giusto cammino e cercano il miglioramento che si sollevano nella nazione del gran dragone rosso e che Dio chiama i giusti non è questa la vita più ricca di significato? Amen Dio si è dotato nel mondo esterno ripagarlo giusto sia lodato Dio da allora ho iniziato a predicare il Vangelo e fare il mio dovere con i fratelli e il mio cuore si è colmato di pace e felicità lode a Dio Dio sia lodato c'è un inno che parla davvero al mio cuore se non fosse stato salvato da Dio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.